Bollette triplicate anche per i comuni che tramite il presidente Anci Puglia e Ettore Caroppo chiedono che venga fissato un tetto al prezzo della corrente. C'è chi corre subito ai ripari per limitare i danni e tra i primi firmatari di un'ordinanza che razionalizza il consumo di energia elettrica è il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, che con decorrenza immediata ha diminuito sia il numero di ore giornaliere di accensione degli impianti, sia il numero di punti luce accesi, una lampada accesa ogni due spente. Coinvolto anche il cimitero dove le lampade votive vengono spente nelle ore diurne. Praticamente io ho fatto fare dall'ufficio patrimonio un prospetto di consumi di quelli che sono stati consumi fino ad ora attuati e si giravano intorno ai 352 mila euro annui per l'illuminazione pubblica, solo illuminazione pubblica, parlo di illuminazione stradale e invece con le nuove tariffe andremo a pagare oltre un milione e quattrocento mila euro. Pertanto io non mi sento proprio di andare a toccare un bilancio comunale che sicuramente andrebbe ad incidere anche sui cittadini stessi. Le tariffe adesso varieranno dallo 0,05 e 7 e qualche altra cosa allo 0,5, pertanto credo che l'aumento sia considerevole.